Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Chiedi scusa, non puoi porti così con una persona Ho sbagliato Minchia, ma un po' di rispetto per favore Ti chiedo scusa Eh, ma anche per la trasmissione, porca miseria Ok Ok Infatti, anche per il principio della fede cattolica Anche la fede cattolica condanna la guerra Quanto meno però la guerra è una legittima difesa, no? Perché uno attacca un altro, no? Infatti, ma comunque è condannata dall'etica Dalla coscienza, no? Che peraltro si rispecchia con la dottrina cattolica, la coscienza umana Vabbè Quanto meno però nella guerra Ma c'è la patta aperta Va bene Ci sta ragazzi, ci sta, ci sta Va bene Ma come cazzo ho appena visto? Quanto la rosa è infatiesi Era Emiglio trombettista, lo sapeva, era palese Sicuro che era infatiesi Sicuro che era infatiesi Quanto la rosa Quanto la rosa Quanto la rosa è solo cashcap Però non le esiste Eh, si è robista Chia Dovenia Ci mancherebbe altro Un misto tra Steven Basalari e Nezac Ok Charker Charker, si capisce un cazzo Non si sente Eh, non toccarlo, non toccarlo Non toccarlo Allora, volevo fare una sfida con Gianmarco Ok Eh, me l'ho passata Perché non eravamo passi mai con la scuola Per il lavoro Ok Minchia È stupido che sei È andata meglio con il lavoro È andata meglio con il lavoro Con la scuola Non vuole essere Ma tu ti puoi Ma ti sei per iniziare Per il lavoro Ehm, non mi ce l'ho passi mai Roma E quindi cosa Grazie Mart, grazie Schelt Grazie Lomba Grazie doppia laurea Grazie Gaio Grazie Giova Grazie Daniel Un piccolo problema, regà Che oggi mi hanno spedito sta maglia E io dicevo Cazzo, mi sta bene Me la vedo Non è una bomba Nooo Non togliamo anche il tessuto 300.000 su vero 399.000 su palco Ciao 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 Sì, è così Bella Simu Sei un negligente Grazie Sbronx Grazie Gab Grazie Lollo Grazie Noa Grazie mille Molto 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 gentile Quindi Gentile la canzone Che fatti altro C'erano su di me Aspetta Ho una maschera di pelle Sopra il viso Che mi culla Una vetrina Sulle stelle Con la musica Da parlare Mamma mia che idea Da parlare Ho paura Ho paura della fame di una pistola che punta e come stare senza chiave e senza spunta sopra un palmare sopra un palma e cosa dai con quell'aria di quella che non c'è mai voglia di sapere un po' come sta sociologia è tutto e lei ha scritto una roba così ma non sarei stato in grado di scriverla io quindi è molto intelligente ma cosa sociologia? ecco la terza cosa come funziona sociologia? cioè tu studia le dinamiche sociali? no? diciamo che è la scienza della società però è una cosa molto vaga cioè non è una cosa specifica devi fare una magistrale magari per indirizzare un po' di più ma è un ramo della psicologia giusto? no in realtà no tutti pensano che sia molto simile a psicologia tu hai dei tuoi cazzo di amici di un romano di merda e stai lì a mangiare matriciana senza venire qua tu hai fatto le stronzate che non capisci un cazzo cazzo di un po' di merda tu sei proprio a fare il culo e discappato che non sei no basta 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 tu sei un coglione non vali un cazzo e non capisci un cazzo e rimarrai sempre solo nella vita per questo scusa per il mio suono qui no no ci mancherebbe no perché parla da sola oh carina bellissima infatti in teoria mi dovrebbe portare un piattino anche a me allora qui abbiamo una frattata di fassona con maionese allo zafferano twill e porcini e fonduta di parmigiano 36.000 grazie mille grazie non devo far ridere questi piatti così lussuosi mi chiedono un posto così ma non è lui non capisci ma poi continua a non farse vedere no ma dopo capisco con mia cugina per favore trattala bene però grazie sì ma è una bravissima ragazza un saluto ma il problema sei tu devi saluto martina vabbè dai ciao pata grazie ciao ciao buona serata ma pata non lo sapeva che non si scriveva no non ci credo no degiù l'ultimo messaggio me l'ha scritto alle 21 e 54 eh cos'è tipo Cristo Dio non scrive femminista deluse solentico i capelli blu a urlare cream parla d'aborto non c'è problema l'aborto è un omicidio e il diritto all'aborto è un diritto all'omicidio è semplice per ammattare qualcuno deve essere anche vivo e deve essere una persona però se no non è umicidio è vivo è una persona il feto è vivo è un insieme di cellule non è vivo uccidono il feto che ha già le manine il feto è la prima sostanza io mi spavento capito quindi se tu inizi a sembrare pazzo poi io ho paura eh ma non è cioè già al posto non promette bene però devi capire che sono pazzo sono pazzo l'outfit mettiamo così non promette bene eh ma devi capire che sono pazzo un pochettino un pochettino lo sono un pochettino lo sono e scusa Vale sono pazzo di te sono pazzo anche un po' di te però vabbè e no ti prego iniziamo questa cena tuoi credessi i fratelli non sei il figlio che devi decidere questo sto dicendo non sei tu che devi decidere non sei tu che no tu non porti la gravidanza tu non partorisci non sei tu che devi decidere tu non sei nessuno per dire alle donne quel che cazzo che devono fare non sei nessuno che dice stronzate basate su irrazionalità che dite che non c'entrano un cazzo non devi decidere fermi fermi basta 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 tutto e basta fermi un attimo fermi fermi sto badando sulle foto che mi stai facendo vedere le conosci io spero non la conosco non l'ho mai vista al vivo sarà ok ok va bene chi è stata cavestro Asia Busciantello Rebecca Parziale mamma mia tosta questa foto Asia non rende molto no la conosco Asia Asia ok sì questa foto potremmo mettere una pochina più è la gran foto Samantha Frisonno Anna Rita Esposito Samantha Samantha ok molto bene Nicky Passarella o s*****o